ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono patrice e oggi faremo un video dove parleremo di questi due libri ragazzi vi farò vedere qualche immagine in questo libro di meno perché ovviamente ragazzi questo qua è appena uscito cioè uscito il 21 non è tantissimo allora iniziamo subito ragazzi e iniziamo allora vi spiego allora vi spiego un po cosa faremo in questo video parlerò di questi due libri vi dirò cioè se mi piacciono a me se non mi piace se non mi piacciono gli parlerò un po del loro canale youtube di queste due ragazzi ragazze e ragazzi io direi di iniziare al video e non prendi cioè non perdici in chiacchiere e iniziare il video iniziamo subito ragazzi allora parleremo prima di rob del libro di robbie perché uscito prima questo è il libro di robbie dai e robbie è un libro molto bello è un fumetto ragazzi molto bellino perché è veramente carino devo vedere quante pagine ha un attimo che non mi ricordo nemmeno io a tante a tante pagine ragazzi non le conto perché non c'è scritto il numero però io non le conto perché ci mettiamo due anni qua però comunque c'è un po di pagine ragazzi guardate lo spessore comunque non è tanto cioè non è tanto poco che non è poco e ragazzi abbastanza comunque mi piace un sacco di vi ho fatto vedere un po troppo forse direi di sì e vi faccio vedere qualche immagine ragazzi faccio vedere questa pagina qua dai la prima pagina è carina faccio vedere ok vi faccio vedere adesso anche una pagina invece di questa immagine qua e robbie visitate in questo modo disegnato così ok ragazzi e questo qua che forse 15 euro e 90 ragazzi è veramente bellissimo il mio libro ok però questi dopo ci ritorneremo presto questo qua forse io vi ho fatto vedere qualche immagine però non troppo adesso passiamo a questo libro qua come potete leggere nel video c'è un fantasma a scuola avventura nella robot school allora per chi non sapesse chi è jenny e questa qua e questa ragazzina qua molto simpatica devo ammettere lo segui lo ce l'ho scoperta grazie a robbie voi dovete sapere un attimo non dovete vedere in questo momento faccio vedere la prima ma così spoiler ho troppo faccio vedere queste immagine qualche comunque non è che si spoilerà tanto eccolo qua ok ragazzi faccio vedere anche un'immagine che comunque ma poi c'è anche un personaggio che è da tantissimo che c'è comunque di tornare sono quantissima il nome di chi adesso devo trovere la pagina per farla vedere un attimo ragazzi perché qua ci sono i numeri delle pagine eccola qua ragazzi eccola qua vi chi 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 è scritta nei commenti chi se la ricorda io me la ricordo troppo poi a fine padre a fine libro c'è questa faccia la faccia di di geni con un pc di piccola descrizione di lei mi è pagato mi costato anche questo 15 euro e 90 io non mi faccio leggere la trama forse avete legato un pochettino ma dai ragazzi niente vi devo dire di che cosa ne penso di questi due libri allora sono belli molto belli penso che è bellissimo bellissimi vi consiglio anche voi di comprare ovviamente ragazzi cioè poi mai se non vi piacciono i youtube non volete leggere il libro io ovviamente non vi obbligo però se lo volete potete pure comprare comprarlo si trova nelle librerie ragazzi comunque bellissimo meraviglia io quando ho visto in libreria ho detto devo comprarlo devo comprarlo quando ho visto i video di robbie di geni cioè io e ragazzi ero troppo contenta comunque ragazzi vi ricordo se vi è piaciuto il video e se vi è piaciuto il se vi è piaciuto il cioè se vi è piaciuto il video se vi sono piaciuti i libri un pochettino di quello che vi ho fatto vedere lasciate un bellissimo like iscrivetevi al canale attivando la campanella per ricevere tutte le notifiche e commentare qui sotto se volete ciao al prossimo video